All'indomani dell'ennesimo lutto ci si interroga a tutti i livelli su come fermare questa strage di ragazzi sulla strada al termine di un agosto davvero nero per la marca con 11 vittime. Il direttore dell'Ulse Benazzi rilancia il progetto che coinvolge le autoscuole affinché prevedano nella formazione dei futuri neopatentati degli approfondimenti specifici sulla guida in sicurezza e i comportamenti da tenere. Le scuole guida sono pronte a fare la propria parte. In genere quando sentiamo queste stragi ci fanno sempre male perché non vorremmo mai che i nostri ragazzi perdessero la loro vita proprio in questo modo. Dall'altra parte dobbiamo fare di più, dobbiamo prepararli un po' prima questi ragazzi anche, una preparazione più scolastica, iniziare prima. Cominciare fin dai più piccoli con una formazione adeguata all'età. Stiamo già facendo con la provincia e insieme all'ASL un percorso di formazione proprio nelle scuole per questi ragazzi. Quello che vorrei io è che proprio ci fosse un posto per l'educazione stradale, magari aggiunta anche all'educazione civica, una materia di studio perché è molto importante per i ragazzi. Se l'abbiamo persa e dobbiamo recuperare quella parte di consapevolezza, di maturità che dobbiamo avere e che i giovani devono rispettare le regole. Particolare attenzione ai due grandi imputati responsabili di tanti incidenti, la distrazione alla guida spesso causata dall'uso dello smartphone, la velocità e l'alcol. I processi per guida in stato di ebrezza in tribunale a Treviso sono poco meno di uno su tre, ma non sembra essere un deterrente. Ha detto due giorni fa il procuratore capo Marco Martani, annunciando un super vertice nei prossimi giorni per affrontare la questione, rilancia il direttore dell'Ulss. Ha ragione il procuratore quando dice che va fatta la prevenzione con i giovani nella scuola, cosa che stiamo riprendendo e faremo, ma io continuo a ribadire il mio concetto che vorrei prendere in mano da settembre, facendo un incontro con tutti i gestori delle autoscuole della provincia di Treviso, perché dovremmo inserire all'interno dei test anche la possibilità a dei nostri specialisti, del SERD e comunque anche della prevenzione, che vadano nelle autoscuole a dedicare una serata, un pomeriggio, un paio d'ore dove vanno a spiegare i danni dell'alcol e il rischio dell'alcol. Credo sia fondamentale perché il neopatentato deve capire che è importante non solo conoscere i cartelli stradali, come si parcheggia, come si guida, ma anche che l'alcol e le sostanze sono deleterie per la guida, perché rischiano loro e sono ovviamente documento per gli altri.